Ben trovati amici di Oggi Trading, io sono Matteo Talarico e oggi andiamo a vedere un'analisi su Alibaba. Alibaba titolo che è un po' sempre nell'occhio del ciclone, titolo cinese, lo conoscete quasi tutti, e-commerce. Perché resta sempre un po' nell'occhio del ciclone? Perché come vedete da questa immagine qui, Alibaba nell'ultimo periodo ha perso parecchio dai massimi storici. Per quale motivo ha perso parecchio dai massimi storici? Innanzitutto iniziamo a dire che l'ultima analisi che abbiamo fatto su Alibaba risulta al 30 dicembre del 2021, quindi oggi sono passati otto mesi da quel momento e quindi siamo di nuovo qua ad analizzare il titolo. Vediamo che cos'è successo però in quegli otto mesi, vediamo se i nostri livelli hanno funzionato. Ci trovavamo in quest'area qui, in cui il prezzo aveva toccato i 112,90. Nell'analisi avevamo visto un po' di livelli a 108 e a 138 come fascia di prezzo iniziale. Bene, il mercato effettivamente fino praticamente a 16 febbraio, quindi per un mese e mezzo, ha lateralizzato in questa fascia di prezzo che avevamo dato a fine 2021. Come vedete il prezzo è nato a 137 per ritornare poi alla fascia di 108, poi una volta che l'ha buccata il prezzo ha fatto un pullback sempre sul prezzo di 108 per poi andare a scendere nella fascia inferiore. Ad oggi si trova sempre nella fascia intermedia bassa che avevamo individuato già a dicembre dello scorso anno. Adesso i livelli sono un po' cambiati, chiaramente, perché comunque diciamo che dopo un po' di mesi il mercato cambia, però come potete vedere siamo sempre in quest'area laterale. Quindi non ci aspettavamo grandi scossoni di prezzo, ovviamente uno scossone passare da 80 a 160 è un 100%, però Alibaba ci ha abituato a queste performance. Adesso però andiamo a vedere un attimo di aggiustare questi livelli. Innanzitutto, che cos'è che spaventa Alibaba? Alibaba è stata massacrata innanzitutto dal governo cinese, soprattutto il suo fondatore Jack Ma, con multe miliardarie, governo che chiaramente mette un po' i bastoni tra le ruote a quello che poteva sembrare un monopolio Alibaba, che ricordiamo che non fa solamente e-commerce, ma tratta anche servizi finanziari, per esempio. Di conseguenza, oggi ci mettiamo qua su TradingView a vedere il titolo. Vi ricordo che abbiamo scelto Alibaba perché l'avete votata voi in un nostro sondaggio sul gruppo Telegram. Se non siete ancora registrati al gruppo Telegram è gratuito, è un gruppo discorsivo, si interagisce insieme, si fanno analisi, potete chiederci le analisi che volete e noi le facciamo. Basta che cliccate nella descrizione di questo video e troverete il link per il gruppo Telegram. Oltre che il link per il sito, scorrete un po' in basso, ci sarà anche quello per Telegram. Allora, Alibaba, che cos'è che spaventa il mercato ultimamente? Perché Alibaba, nonostante abbia comunque dei fondamentali molto buoni, degli utili che la fanno considerare ancora ai prezzi attuali, confrontandola a colossi come Amazon o comunque altri colossi mondiali, lo fanno considerare un titolo sottovalutato. Alibaba subisce in questo momento le pressioni sul delisting. Che cos'è il delisting? In questo momento Alibaba è quotata al New York Stock Exchange, quindi il Nise. Il Nise è una borsa di New York, abbiamo fatto anche un intervento noi dentro la borsa. Potete andare a trovare qualche foto, qualche video per vedere com'è sui nostri canali. Mi pare su Telegram trovate sicuramente qualcosa anche sul nostro sito, un'intervista alla CNBC. Di conseguenza, nel momento in cui viene delistata dalla borsa di New York, il titolo inizierebbe a non essere più quotato in dollari. Di conseguenza passerebbe forse OTC, quindi over the counter, quindi su mercati non regolamentati, o comunque rimanerebbe sul mercato secondario di Hong Kong. Ora, prima cosa da dire, in caso di delisting, chiaramente gli investitori si spaventano, perché un mercato non regolamentato è un mercato che è più, diciamo, oscuro, tra virgolette, meno controlli, di conseguenza un investitore istituzionale non si fida a comprare sul mercato non regolamentato. Di conseguenza, questa è la prima cosa che spaventa gli investitori e questo ha creato il FUD, chiaramente. Quindi FUD è semplicemente un altro che la paura, paura generalizzata, che il titolo venga delistato. È ragionevole questa paura degli investitori? Allora, innanzitutto, le ultime notizie di qualche settimana fa, la SEC ha presentato una lista con le società che dovrebbero venire, che sono a rischio di delisting, perché la SEC non è altro che la commissione di vigilanza per la borsa americana, e ha presentato una lista con varie società a rischio di delisting, tra cui all'interno Alibaba. Di conseguenza, questo ha spaventato un po' il mercato, che chiaramente non ha appreso molto bene questo tipo di notizia. È anche vero da ricordare che quando una società viene delistata o rischia di delisting, quando non riesce a presentare al PCAOB, un'autorità che si occupa di controllare i bilanci delle società quotate, quando non riesce a fare l'audit per tre anni consecutivi del bilancio. Quindi Alibaba è a rischio per il semplice fatto che l'anno scorso, nel 2021, non ha avuto la possibilità di presentare questo tipo di documento, il bilancio, a questa autorità, per il semplice fatto che è stato fatto da una società che non rilascia il bilancio certificato per l'America, o comunque qualcosa del genere. Il rischio essenzialmente è questo. Io credo che per Alibaba non sarà un problema poi presentare in bilanci a questa autorità nel prossimo futuro. In ogni caso, questa è la paura. Ricordiamo che comunque Alibaba ha anche presentato, se non ricordo male, un rapporto per iniziare ad essere regolamentata anche sul mercato primario di Hong Kong. Quindi nel caso di delisting, in questo caso l'investitore che vuole acquistare Alibaba non dovrebbe fare altro che andare sul mercato di Hong Kong e comprarla. Di conseguenza dovrebbe essere una cosa molto semplice da fare, come noi italiani andiamo nel mercato americano per comprare Alibaba, sul Nise o come un americano viene ad esempio sul mercato di borsa italiana per comprarsi il titolo Nexi, per esempio, o come noi possiamo andare sulla borsa tedesca per comprarci il titolo BMW o Daimler. Il concetto è quello. Noi andiamo sulla borsa di Hong Kong per comprarci il titolo Alibaba. Quindi questa cosa dovrebbe già iniziare a non spaventare, a spaventare meno gli investitori. Ecco, questa è una prima cosa, perché in questo momento, ricordo, che viene considerata come stato secondario nella borsa di Hong Kong, passerà a stato primario e di conseguenza passerà il, si chiama Primary Listing Process, quindi il processo dovrebbe passare dentro la fine dell'anno. Quindi sarà una cosa molto più tranquilla nel caso in cui Alibaba dovesse essere delistato dagli Stati Uniti. Detto questo, andiamo a vedere un attimo, quindi visione non così pessimistica, neanche in caso di delisting. Questo è la cosa principale. Ovviamente nel momento in cui la notizia di delisting, se dovesse uscire, uscisse, chiaramente questo spaventa gli investitori, ma un investitore è di lungo periodo, quindi non si fa prendere dalla paura. I bilanci rimangono buoni. Detto questo, i livelli di Alibaba. Allora, i livelli più o meno sono simili a quelli che abbiamo visto a dicembre. Non cambia tanto, sinceramente. L'unica cosa che cambia, a mio avviso, è una fascia di prezzo un po' più bassa, che ho individuato, in area 124. Il livello comunque rimane importante, anche questo qua del gap dei 160, nel quale, superato il quale, potremmo vedere un rialzo che potrebbe portare finalmente Alibaba a girare in un trend rialzista, finché non andiamo a boccare a 160, il trend rimane comunque un trend laterale ribassista. Ok, quindi non andrei a fare operatività particolari long su Alibaba, a meno che non mi supera i 160. Detto questo, abbiamo dei livelli sopra e sotto. Fascia di prezzo rimane tra le 86 e 108. Questo vuol dire che il prezzo attualmente sta lavorando questa fascia qua. Quando raggiunge le 86, tendenzialmente viene ricomprato, area 86-80 viene ricomprato. Quando raggiunge i 108, secondo noi, adesso in questo momento, è un'area in cui potrebbe esserci o un pullback, quindi un pullback come è avvenuto in questo caso il primo di marzo, perché abbiamo una bella resistenza. Nel momento in cui dovesse venire violata quest'area di 108, quindi anche con una giornata barra 2 di chiusura superiore a 108, a nostro avviso il target secondario potrebbe essere quello tra i 120 e i 124. Si trova il primo gap a 120 e i massimi di periodo a 124. Con delle chiusure sopra i 124, allora lì possiamo avere un campo di azione un pochino più ampio, dove potremmo vedere prima i 139, che è quest'area che ha funzionato bene come resistenza nell'inizio dell'anno, e l'area poi dei 160 dopo. Quindi ricordiamo che le chiusure sopra questi livelli proietterebbero il prezzo a livelli superiori. Viceversa, le chiusure sotto i livelli degli 86 proietterebbero il titolo verso i 72. In quali casi potrebbe avvenire questa situazione? Nel caso in cui Alibaba venisse veramente delistata e quindi potrebbe partire un po' di panico al ribasso nel breve periodo. Altrimenti potrebbe partire panico al ribasso semplicemente perché succede qualcosa in Cina. L'economia cinese in questo momento è un'economia che sta sentendo un pochino il problema della crisi immobiliare. Come sappiamo il caso Evergrande o comunque obbligazioni non pagate dai principali players del mercato immobiliare in America e in Cina e di conseguenza sta sobbendo un po' quello banca centrale cinese che ha abbassato i tassi di interesse per stimolare l'economia ancora vigila la politica dello zero Covid quindi lockdown su lockdown nel caso in cui si trovi un solo caso di Covid questo rallenta sicuramente l'economia e è una situazione un po' complessa in Cina quindi rimane ancora una situazione complessa uguale incertezza incertezza uguale ai mercati ribassisti quindi non abbiamo delle grosse visioni positive nel brevissimo periodo in Cina come non ce l'abbiamo sui mercati magari principali finché non abbiamo meno una sistemazione dell'inflazione e dei mercati macroeconomici mercati americani ed europei quindi dobbiamo vedere i dati che usciranno essenzialmente questa è la realtà dei fatti tutto questo per dire che cosa che quindi delle rotture a ribasso di questi livelli eppure retterebbero il titolo a 72 livelli più bassi c'eravamo a 52 mi pare visto nell'analisi scorso 54, 52 quelle aree lì che però poi se dovesse bucare andremo a rivedere in un'analisi perché sono aree che vanno analizzate e studiate ancora meglio quindi questa è l'avvio del titolo laterale finché il mercato rimane tra 86 e 108 bucati i quali si può iniziare a andare su delle fasce un po' più alte un po' più basse questo è tutto per Alibaba rimane un'azione che a mio avviso nel futuro può fare bene ok nel senso che può performare bene mi piace mi piace a me come titolo a questi prezzi qua chiaramente non lo guardo tutti i giorni perché so che oggi c'è una notizia domani c'è un'altra e so che continua a oscillare però rimango fiducioso che comunque anche se dovesse venire delistata sarà quotata sul mercato primario con un primary listing su Hong Kong quindi non sarà un problema acquistarla e di conseguenza sono abbastanza fiducioso su questa questione qua e quindi vedremo come sarà insomma questa è un po' la view mia e di oggi su Alibaba bene se avete altre richieste di altre analisi vi invito a scriverlo qui sotto nei commenti del video di entrare nel nostro gruppo Telegram e noi ci vediamo senz'altro nelle prossime puntate grazie grazie grazie